Qualche parola sulla mutilazione, su queste ceremonie. Questa è una piccola sampa, che si chiama, che è una bambina che è presa dai familiari, che educano per diventare una donna che può fare le escezioni. Che può farle? Che le farà. Impara a ballare, a cantare, a suonare, impara tutta la medicina tradizionale. Sono cinque, sei, sette, dieci anni per diventare una grande, le chiamano delle sowè, le donne bondo che fanno le mutilazioni. E questa è una piccolina che balla meravigliosa. E dietro, quel capo rosso, è il segno delle donne bondo che fanno le mutilazioni e hanno il capo fular rosso. Allora, una ceremonia. Noi adesso facciamo le ceremonie di una settimana perché non c'è questo periodo di cicatrizzazione. Succede così. La sera, generalmente la domenica sera, a fine pomeriggio, arrivano tutte le famiglie con le bambine. Le facciamo con 60 bambine e se c'è qualche donna bianca che vogliono fare l'esperienza, sono benvenute. Si balla, si canta, si mette un po' in atmosfera, si prepara ad entrare. E poi abbiamo costruito, abbiamo fatto dono a queste donne di una casa africana, così c'è un po' più di sicurezza per gli animali. Fanno un corridoio, le donne e le donne, e c'è chi chiama i nomi. E l'uno dopo l'altro entrano, col rumore, i canti dei tamburi, come si diceva prima. Però non più a tre anni. Allora adesso li prendiamo. No, adesso chiedo che abbiano almeno sette anni perché io non voglio perdere le tradizioni. E mi piacerebbe che le bambine si ricordassero di questo evento, di questa settimana, perché è bellissima, è molto importante. Noi non abbiamo più tradizioni e loro le devono mantenere. Prima si sono presi i bambini che avevano anche 4-5 anni, ma anche con la paura, che non hanno approfittato bene. Adesso richiedo che le prendano minimo sette anni, dieci anni, penso che è una buona età, però loro la scelta lascio. Si entra, sono spogliate, messe di bianco, messe l'uno a fianco là. Una polvera, una specie di polvera bianca che si vedeva sulle foto prima. Quando tutte sono passate lì, si dorme. E tutte le mattine all'alba si esce, vestiti, con anche un foulard. I uomini non possono vedere le donne che sono in iniziazione, vietato. No, 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 sono vestite, però nessun uomo ha dritto di vederle. E quando si passa in corteo per andare nella foresta, gli uomini devono scappare. Non hanno il dritto di guardare negli occhi una nuova donna bondo o una donna bondo, perché hanno veramente una grande potenza, la potenza femminile. è come un... Di nuovo c'è questo segreto che è... E poi le giornate, durante le giornate si passano nella foresta, ci sono varie rituali di purificazione. Questo è uno dove tengono le mutande, non si vedono, però non hanno le mutande, fanno una specie di... di pozione con delle erbe medicinali, con varie erbe, e con i canti sono purificati dalla testa ai piedi. Questa è una di loro. Poi ce n'è un'altra che portano sulla testa, si vede che questa ha un paniere, un cesto, che normalmente non aprono. io, durante la mia iniziazione, l'hanno aperta, che ci sono vari cortelli, vari oggetti mistici, c'è anche una testa di animale, un cranio di animale, e questa, durante tutta la cerimonia, è posta in un luogo che non si muove e viene rimosso solo alla fine della settimana. Sì, ci sono varie occupazioni diverse, cosa si possono fare con le foglie, si fanno le scarpine, si fanno le gonnelline. Cioè, chiamano anche gli spiriti? Allora, sì, c'è qualcosa di spiriti, perché... La foresta, non lo so, gli spiriti... Allora, non ci hanno messo in contatto, però io ho visto, perché durante la mia cerimonia facevamo il bagno nel fiume, lì, nudi, anche lì dicevano, ma tu, tu, non hai paura, tu puoi andare nel fiume? Desso, perché no? E io vado a nuotare. Non pensavano che una donna bianca potesse andare nel fiume con loro. Di nuovo, mettersi allo stesso livello si guadagna la metà di questi lavori. Qua è una delle donne che impara a muscolare le natiche alle bambine. Fa parte dell'educazione. Sì, sì. Tutte le bambine poi ballano, poi c'è un'altra che fa vedere un parto, però c'era una donna che aveva dei gemelli, allora si è messa per terra così, le gambe allargate, ha messo i due bambini qua, poi diceva, c'è un mal di pancia, e poi usciva un bambino. Così le bambine sanno da dove c'è un bambino, ma tutto col gioco, tutto, e beh, è molto bello, è molto bello. Dopo una settimana, questa sono io tutta la bianca, e questa è un'amica, e allora c'è il diavolo quando parte, il mistico, c'è sempre questa presenza del diavolo che è anche buono, non è solo il diavolo cattivo, però, sì, è molto importante, fa qualche apparizione durante le cerimonie. Allora, alla fine della cerimonia, l'ultimo giorno, la mattina, tutti sono messi in bianco, bianco la purezza, che siamo stati una settimana con vari rituali, vestiti di bianco, con queste fasce che sono fatte dalle Soe, speciale, tutto ha il suo, deve esserci, e si fa un giro in tutto il villaggio, cantando, adesso esco da dove ero, e lì non ci tornero più. E come l'entrata nella società? Sì, così tutta la gente dei villaggi, le mamme, tutto, vedono che si esce fuori, che siamo andati dentro e adesso usciamo fuori, e questa è, questa ex Soe, che è diventata la madrina del programma, ha fatto lei una cerimonia sua con le sue familiari che lei smetteva assolutamente di praticare e parla con le sue colleghe e dice, ma meglio l'educazione che mutilare le nostre bambine. E questa è Renata quando ha fatto la sua cerimonia andando nel villaggio, ci sono tutte le mamme attorno, tutto, sì, tutto, tutto il villaggio.